Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok e su Twitch e il link trovate qui sotto in descrizione. Dunque, signori, completamente a sorpresa, non era stato neanche teaserato da nessuna parte, Marvel Studios e Disney hanno annunciato oggi, nel giorno di San Valentino, il cast ufficiale dei Fantastici 4, o perlomeno dei quattro membri della famiglia di casa Marvel. Non ci sono particolari novità, hanno confermato i rumor degli scorsi mesi, infatti avremo Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, Vanessa Kirby nei panni di Susan Storm, Ebon Moss Buckrack nei panni di Ben Grimm, ovvero La Cosa, e Joseph Quinn da Stranger Things arriva direttamente in casa Marvel nei panni di Johnny Storm. L'annuncio è stato fatto con questa promo art, appunto per il giorno di San Valentino, che anticipa, secondo me, un paio di cose interessanti. Prima di tutto possiamo vedere il nuovo logo, appunto ho scritto Marvel Studios Fantastic Four, ma anche il setting generale che ha quelle vibes da anni 60, quindi potrebbe avere confermato anche il fatto che il film sarà ambientato negli anni 60 e poi loro a fine pellicola in qualche maniera arriveranno ai giorni nostri. Sono molto carini anche i costumi, molto retro, ma la cosa che mi ha colpito più di tutti è che c'è Herbie, che è questo robottino che era stato introdotto per la prima volta nella serie animata dei Fantastici 4, e poi era stato portato all'interno dei fumetti. Tra l'altro abbiamo il buon Ebon Moss Bachrach disegnato nel quadretto, perché qua è già in forma di Ben Grimm, che tra l'altro se dovesse uscire nel prodotto finale, così come nella foto, che è fedelissimo alla versione a fumetti, sarei stra stra contento. Lui tra l'altro è perfetto, ha proprio gli occhi di Ben Grimm, gli occhi azzurri della cosa, e sono molto contento di questo casting, in particolare Vanessa Kirby, che è una delle mie crush di sempre, e secondo me è veramente perfetta. Pedro Pascal è per assurdo quello più famoso, è quello che mi lascia un pochino più dubbioso, perché comunque già anche in questa prima promo art è sempre Pedro Pascal, con il solito look di Pedro Pascal, ovvero il baffetto, la barba, solamente con la parte dei capelli grigi qui sul lato, e mi ricorda un pochino sempre lo stesso personaggio, alla fine il look di Pedro Pascal è sempre questo, però lui è un attorone, sono certo che farà un lavoro incredibile. Inoltre abbiamo anche la data di uscita confermata per il 25 luglio 2025. A questo punto sono molto curioso di scoprire chi sarà il villain di questo film, non credo che sarà Destino o Galactus, non avrebbe assolutamente senso metterli in un primo film, magari ci faranno vedere Victor Von Doom, ci citeranno la Latveria, anche lui rimarrà coinvolto nell'incidente che gli darà i poteri, ma non penso ce lo diano già in forma di destino, a meno che non lo vogliano effettivamente già usare in Secret Wars, ma avrebbe magari senso teaserarcelo nella sua forma finale in questo film, e poi portarlo in Secret Wars. Secondo me, vista l'eventuale ambientazione degli anni 60, un uomo talpa per me ci sta alla grande. Ti tiene abbastanza basso sul livello di minaccia, perché comunque lui tira fuori i mostri da sottoterra, senza dover per forza introdurre roba uber sgrava, e sono curioso soprattutto di vedere come li porteranno dal passato a questo punto al presente. Secondo me, in qualche maniera, rimarranno bloccati in una sorta di zona negativa dell'universo Marvel, e poi verranno riportati nel presente, un po' come accadeva al personaggio di Scott Lang, quando rimaneva bloccato appunto nel regno quantico, e poi tornava cinque anni dopo gli eventi di Infinity War. So che l'hanno già fatto, ma non è che hanno tante opzioni a riguardo. L'altra opzione sarebbe che finiscono in qualche maniera in un portale temporale, che li teletrasporta tutti di botto già nel presente. È un film rischioso, perché comunque è un franchise che è sempre andato di merda al cinema. Sono curioso di vedere appunto come lo gestiranno, se questa sarà effettivamente la volta buona che risolleverà i Fantastici 4 in sala. Io sono curiosissimo di sapere a questo punto cosa ne pensate voi di questo cast, cosa ne pensate dell'eventuale ambientazione degli anni 60, ma soprattutto chi sarà il villain secondo voi. Devo dire che l'annuncio mi ha un po' lasciato solamente un pochino deluso, perché buttato così con un post su Instagram, potevano sfruttarlo molto meglio. Il rumor di qualche giorno fa, secondo il quale poteva essere annunciato da Deadpool nel suo trailer, sarebbe stata una bomba. Secondo me immaginate che se all'interno del trailer, in uno degli schermini di Deadpool, si vedeva questa foto qua. La zoomavano e ci facciano vedere il cast. Sarebbe stato super super epico. Ci sono anche bruciati l'annuncio in pompa magna, se è indigo comico, anche se sicuramente si porteranno tutti gli attori, magari annunceranno l'attore di Destino, o il villain, già appunto alla fiera che si terrà quest'estate. non rimane altro che aspettare altri aggiornamenti. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi ragazzi e noi come sempre e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!